Mica come è morto. Che cos'era questo? Profi lattici. Ma si trovano a tutte le parti, ma vieni a cattare un litro di latte e te ne hanno riesciato a non mangiare. Dice perché? Perché questi fai figli, questi si rompono. Si rompono fai figli e vengono che c'è un latte. Se c'è così, capisci? Mi si accorto dei pastifici gragianesi? Ogni sei pacchi e pasta ne esce un. A cannulicchio. Gli volevano fare il fusile, però il papà non si poteva mettere. Era tutto arraugato. Quando eravamo a giù noi, eravamo a cattare, eravamo il problema. Perché vennevo sulla farmacia? E' meglio figura di merda. Perché tu non dirivo il coraggio lui a chiedere. Dottore, arrivò sempre la dottoressa. Dica. No, è che volevo un pane e cose. E cose per dire. E cose che aveva un biglietto. E che cosa? E come? E vieni a vincere. Perché anche tu sei per tutto il santo, mi fa male. Allora da che vieni a vincere, poi la dottoressa sta la mamma e faccia la tua dottore. La dottoressa sta sotto un bagone. Dica. Una dottore cosa fai a posto? E che io ho preso la testa di pivincì, però mi sono scrittata che dovevo prendere pure quegli altri cosi. Quelli... Lui che lì... ha... 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 plastica, cavone... fa... e su posto. E' sempre proprio creatore che ti hai detto un zino tutto intorzato, dottore. Finché non faceva la faccia tosta. C'erano 300 euro in maricina che ti aveva accattato che non ti serveva. Dice, ma io non c'è dietro, io non vengo che fanno. Dottore... date una scatola di... cosa vuole? E' accerlo qua. La scatola di... eh... non ho capito. Dottore sto gridando. Mi date una scatola di... tip, eh... t... ti... v... eh... scatola di... eh... e' taught me... se la signorale Dottore ha detto preservative, ma...他 la è fatta tu. E's a смeni che avrò risolto il tuo problema. No aspettate ti diceva che aveva risolto il tuo problema, perché allora tu domandava come li vuole. Io volevo un vestito per il bambino, non lo so, vi do il tipo jeans e si cagli dà cernino. Allora vi do il tipo dopo il serbetoio, non mi fa la corsa in macchina buona. Allora vi do il ritardante per lui e il stimolante per lei e si muove tutto il contrario. Vi do il tipo con i chiodini, ci ha divertito, ci ha fumato stasera. Allora ci devi mettere uno. Dice allora vabbè ma lo faccio io, vabbè ti devi salvare. Ah dimenticavo che misura. Prima, seconda, terza, quarta, quinta o sesta? Dottore sesta, come ricetta sesta in due picchiarelle? Dottore sesta, non le sembra di esagerare? No, perché? 60 centimetri, anzi. Un po' come vuoi esagerare? Un po'. Che dice lo riduciamo? No, ci faccio il piede. Mi piace il corrisvolto che può. E tu ti credi che quando ti ha accattato hai risolto il tuo problema? No. Perché mo' è sciofuglio dirla. Queste sono le istruzioni. L'avete mai lette? Stizzazzuso. Ti ho subito dittato tutto il coso. Sai ma serve solo fare. Leggete quello che ci sta scritto. Che potete imparare un sacco di cose. Buona regolita. Attenzione nell'aprire la confezione non rovinare il contenuto con le unghie o con i denti. E come sta? A appoggiarlo su... Là. Prima di ogni rapporto. Cioè sullo struzzo puoi mettere la roba. Srotonarlo per tutta la sua lunghezza. Le macchine le mo' ti dà nel questo... Buongiorno è tanta. Casi ho facito a niente che gli dice... Ah no ma che le no metti nei chiuditi sta roba. Se fanno certi... Attenzione alla formazione di bolle d'aria. Di schiavi. Io oggi ho pensato tutti i modi può morire. Ma le boliere o cacchie proprio... Non ce l'ho pensato. Poi... Controllare che sia ben oleato. E se non sapete decidere... Vi giuro c'è scritto... Chiedete consiglio al farmacista. Allò tu sei a Nur... Custo cosa? Mi chiamo... C'è Saludio? Ma non lo so. Ma puoi spiegare ma venga. È Cina. Cosa a Nur.